dobbiamo aspettare un minutino perché ancora sono le 12.31 e abbiamo rinviato alle 12.32 grazie sono le 12.32 se le vuole allora le 12.32 assume la presidenza il consigliere UMA l'appello alle 12.32 siete presenti solo voi due, giusto? io e Cosimano Armetta assente, Costantino assente Fiore assente Galioto assente Gottuso assente Megna assente Puma presente no, Cosimano è presente sì, presente, sono presente lei non ha parlato con gli acusati io ci ho messo assente no, 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 sono presente allora, Puma presente Sandovalli assente Scaffide assente vista la mancanza del numero la seduta è chiusa è chiusa alle 24 quindi è rinviata alle 24 al giorno successivo va bene, ok buona giornata grazie buona giornata grazie a voi buongiorno buongiorno grazie a voi buongiorno grazie a voi buongiorno grazie a voi grazie a voi grazie a voi